Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, siamo qui assieme al raffreddore Quindi, come al solito, sto una merda sempre di più, ma possiamo proseguire con T-Rex No, non sei T-Rex Chi sei? Io, ma ragazzi, chi è lui secondo voi? Perché ancora non l'ho capito? Presentati al pubblico Io guardi i video porno Oggi, come avrete letto dal titolo, ci andremo ad affrontare in questa partita Con le nazionali femminili Big tizze contro... Contro piccole tizze Allora, terzino destro, terzino destro e difensione centrale destro, pazzesco Tutti i maschi sono miei, guarda questa Ma oddio Questa è quella che ti guarda quando ti rompio Pensa che fio quando risultano che si toccano le tette No, ah, vecchie le minne Non mi vedo così Dai cazzo Vai, shoot No, dai figa Pironi Dai, deficiente Occhio Aslami, ma me l'ha preso Mamma mia, shoot Eh, l'uomo Eh, la cosa comica è che oltre le doppie sanzi che favo Oh, vai, c'è il portiere Ma perché? No, esce le minne No, ma è stupendo No, ma è successo Ma comunque questa già ha uno skill goal Oh, ah, mi ti faccio stavalla No, perché è divertente Stacco le vaglie Ah, vero Perché poi stacco le vaglie Ok, slami È troppo forte Oh, quanto è questo? C'è un braccio lungo Ci prova Beh, meravigliosa creatura Attenzione ари Attenzione Occhio per occhio Bocchio per bucchio Attenzione Occhio per occhio Bocce per bocce e reality Ma la portiera mia è alta 55 centimetri sega si butta dentro ah no spero non lo posso dire se butta dentro però oh oh pipa la pipa stupendo guarda come tu vede guarda come arriva lukaga lukaga aslali ti butta mamma mia aslali se non esce ora non escerà mai più mi carica turn down forte nooo non puoi aprire i pali è vero però è bruttissimo aprire il palo ho mangiato pure il tuo e io pure me l'ho mangiato prima è tutta dieta lui c'è rubentus vai rubentus grande grandissima deve segnare lei deve segnare lei deve segnare lei nooo non 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 5 euro ma perchè è nana lo fa apposto bene ragazzi siamo giunti al termine di questo video lasciate un like se questo video vi è piaciuto passate dal canale mio spero che non sia spero che non sia venuta troppo una pagiolata ma spero che sia appunto venuto un video abbastanza divertente presto tornerà anche la calcio tennis challenge 2.0 visto che la prima vi è piaciuta tantissimo lui ancora non si chiara quella sconfitta ma per il momento è tutto se non lo siete già iscriviti al canale bella rega ciao